Buonasera ai nostri telespettatori, questa sera un tema particolarmente importante. Le cronache spesso riportano fatti episodi di violenza nei confronti del personale sanitario e parasanitario, togliendo anche a queste persone che sono nell'addempimento del proprio dovere e intente a salvare vite umane, a non ragionare e non lavorare con la serenità che è necessaria e indispensabile. Il Ministero della Salute ha voluto dedicare una giornata che non deve essere una giornata celebrativa alla sensibilizzazione a questo tema, la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari proprio perché sta diventando un problema davvero significativo. Ne parliamo con i nostri ospiti, abbiamo e li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, la dottoressa Lilia Fredella, questore della nostra città, grazie per essere venuta nei nostri studi, Michela La Regina, la dottoressa direttore di struttura complessa di governo e rischio clinico della nostra ASL e la dottoressa Silvia Simonini che è il medico competente dell'ASL che si occupa direttamente del rapporto con i medici, spesso anche con quelli che hanno subito questa violenza. Allora, intanto io direi, vogliamo inquadrare il senso, lo spirito di questa giornata. Dottoressa La Regina. Guardi, il problema della violenza contro gli operatori sanitari non è nuovo, risale a diversi anni fa ormai, tant'è vero che sempre il Ministero della Salute aveva inizialmente già promosso degli interventi soprattutto sul personale sanitario, interventi di prevenzione contenuti in una raccomandazione inviata a tutte le strutture sanitarie pubbliche già intorno al 2007, 2007 e accolta anche nella nostra ASL. Poi però il fenomeno è andato progressivamente aumentando anche perché la raccomandazione chiedeva appunto la segnalazione, il monitoraggio degli eventi di aggressione e questo ha portato poi l'anno scorso il Ministero ad istituire una vera e propria giornata di riflessione. A me ha colpito molto che non si parli più solo di prevenzione ma addirittura di educazione e non solo come si fa in altre occasioni di sensibilizzazione ma di una vera e propria richiamo all'educazione, al rispetto nei confronti degli operatori sanitari nello svolgimento delle loro mansioni. Diciamo che poi negli anni si sono delineati anche altri aspetti di questa violenza per esempio siccome due terzi degli operatori sanitari sono di sesso femminile si sta connotando sempre di più anche come una violenza di genere e poi stanno emergendo chiaramente nuove forme di violenza oltre quella vis-à-vis in presenza anche aggressioni verso singoli operatori o verso reparti, strutture che minano il rapporto di fiducia col cittadino attraverso i social network per esempio e questo è un argomento che c'è particolarmente a cuore nella nostra ASL che abbiamo già studiato alcuni anni fa e che stiamo riprendendo ad indagare con una nuova ricerca col contributo del corso di laurea in infermieristica proprio quest'anno. Ecco numeri preoccupanti, solo per la Liguria si parla di 400 casi, solo per la Liguria, questo significa più di un caso al giorno. La casistica spezzina a che livelli è? La casistica spezzina del 2022 parla di, ha registrato 49 aggressioni. Quelle dei primi, che sono 70 giorni del 2023 sono già 12, un numero sovrapponibile a quello dello scorso anno. Diciamo che sicuramente però sono numeri sottostimati perché ancora non vengono segnalati tutti gli episodi, soprattutto si passa sopra facilmente ad episodi di aggressione verbale. In effetti l'aggressione può avvenire in vari modi, predominano le aggressioni verbali. Stamattina addirittura dal Dipartimento di Prevenzione, dall'area dello screening, mi segnalavano che hanno ripetuti episodi di aggressione anche sulle segreterie telefoniche, di persone che non hanno ricevuto la comunicazione attesa, la convocazione per lo screening, al punto che adesso diventa insomma, c'è timore negli operatori anche a rispondere al telefono. Certo, certo. Dottoressa Simonini, lei ovviamente ha un po' un rapporto diretto sia sull'organizzazione di questa struttura in qualche modo insieme alla dottoressa Larigina, ma poi ha un rapporto diretto anche con gli operatori che vengono in qualche modo coinvolti in questi spiacevoli episodi. Che cosa succede? Qual è lo stato d'animo che non solo dal punto di vista fisico, per chi subisce anche un'aggressione fisica, ma anche e soprattutto le conseguenze di carattere psicologico e morale? Sì, devo dire la verità, io riscontro sempre di più un forte stress a carico degli operatori sanitari, ma non solo, anche del personale tecnico amministrativo, perché poi anche il personale amministrativo basti pensare a chi lavora agli sportelli o che risponde anche alle telefonate, è sottoposto a vessazioni anche verbali, diciamo, a minacce, a calugne e così via. E sicuramente si risente tanto e è uno dei fattori che contribuiscono di più allo stress correlato all'attività lavorativa di chi lavora in sanità. Le cause di stress sono sempre maggiori, basti pensare che il lavoro in sanità è un lavoro che ha un grosso componente di carico emotivo, perché comunque si ha a che fare con la salute delle persone, con a volte anche la morte delle persone. Bisogna essere anche in una situazione di concentrazione importante, perché come diceva lei prima, appunto le cose sono veramente, ci vuole un carico di concentrazione importante per poter gestire il proprio lavoro e poi il sovraccarico di lavoro è sicuramente presente, che tante volte interferisce anche con la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. Per cui gli operatori sanitari sono in una situazione particolarmente di stress, stanno accusando un particolare stress e lo vedo anche dalle richieste di supporto psicologico che vengono fatte dagli operatori stessi. Noi abbiamo uno sportello, chiamiamolo così, la possibilità di avere una psicologa aziendale che risponde sia in caso di necessità, se si hanno aggressioni di tipo verbale o fisico soprattutto, e quindi si può attivare prontamente, grazie alla collaborazione con la salute mentale, si può attivare rapidamente appunto il supporto della psicologa aziendale. Psicologa aziendale che però viene anche consultata spesso e fa tanti colloqui con il personale, proprio per tutte le motivazioni che ho detto prima, che portano a un sovraccarico emotivo sulla popolazione sanitaria e non solo. E devo dire la verità, quando faccio le visite mediche al personale, quindi sia le visite mediche periodiche che a richiesta del lavoratore, spesso vengono fuori disagi di natura emotiva e tante volte, anche stamattina, con segnalazioni al momento in cui mi trovo vis-à-vis con l'operatore sanitario o amministrativo, segnalazioni di disagio psicologico legato proprio ad aggressioni, soprattutto aggressioni anche verbali. Che poi alla lunga diventa un problema sia per chi subisce direttamente, diciamo così, una violenza in qualche modo fisica o verbale, ma diventa un problema anche di riflesso per quelli che vivono intorno lì, che non ne sono coinvolti direttamente, ma corrono il rischio di essere coinvolti in una discussione di questo genere. Che cosa chiedono i sanitari anche in generale nei colloqui? Come pensano che potrebbe essere risolto questo problema o comunque attenuato? I sanitari si chiedono supporto da parte dell'azienda. Adesso diciamo che prima chiedevano anche un supporto in termini legali nel senso di poter esporre rinuncia all'azienda stessa nei confronti degli aggressori. Per fortuna ora con la legge 113 del 2020 è stato introdotto, sono state aumentate le pene nei confronti di coloro che aggrediscono gli operatori sanitari e poi è diventato un reatto correlabile d'ufficio. Allo stesso tempo anche ad esempio è di grande interesse da parte delle rappresentanze sindacali, in quest'ultimo anno è stato di grande interesse questa tematica, tant'è vero che anche negli ultimi tavoli di lavoro con la direzione aziendale a cui ho partecipato anch'io per gli accordi integrativi sul contratto collettivo del comparto abbiamo aggiunto una parte proprio sulla salute e sicurezza dei lavoratori dell'azienda compresa su richiesta delle rappresentanze sindacali di un documento integrativo proprio per come far fronte alle aggressioni. Hanno chiesto un aiuto da parte proprio delle forze di polizia, hanno chiesto formazione, già in passato sono stati fatti interventi di formazione in azienda, formazione sia sulla comunicazione sia su come affrontare una possibile aggressione e sono soddisfatti sicuramente del supporto psicologico che possono avere e poi chiedono di poter avere qualche garanzia in più, infatti ad esempio sono state installate numerose videocamere in vari punti strategici dell'azienda, quindi interventi che a volte sembrano piccole cose ma che in realtà possono contribuire e anche la possibilità di sensibilizzare la popolazione, la cittadinanza come in questa occasione è sicuramente un qualcosa di importante per i sanitari perché dobbiamo far capire che non possiamo prendersela con la persona che abbiamo davanti che è ovviamente la faccia, la prima faccia, il primo volto che però è un lavoratore che ce la mette tutta e che a volte ci si trova a essere tra virgolette arrabbiati contro una questione di sistema, ma non ce la possiamo prendere con... Lo dico io nel senso che almeno non vi coinvolgo, è chiaro che un po' le carenze di organico che potrebbero garantire in un certo qual modo anche un front office più rapido, più veloce ma è anche evidente che i medici e gli infermieri che stanno curando una persona devono curarsi della persona e non del parente che è fuori ad attendere che ha giustamente la necessità di avere contezza delle condizioni ma è chiaro che la priorità deve essere riservata al paziente. Tra le questioni appunto richieste è anche quella un po' di supporto della Polizia dottoressa Fredella, so che siete stati coinvolti ovviamente non solo nel momento delle denunce sulla quale hanno la loro procedura ma anche dal punto di vista della prevenzione e avete preso proprio in questi giorni una iniziativa davvero utile, necessaria, forse indispensabile e che cosa avete attuato? Allora, la Polizia di Stato è storicamente presente all'interno degli ospedali con i posti di polizia poi a seconda delle varie vicende di ciascun ospedale, in particolar modo del Sant'Andrea di La Spezia cosa era successo? Che nel 2020 l'unico operatore che era lì destinato era andato in pensione vuoi per una serie di ragioni, compresa la pandemia, questo servizio non era stato ripristinato. Era ben chiaro a tutti la necessità di rapidi interventi in questa che io mi permetto di considerare un po' un non senso prendersela con l'operatore sanitario nel momento in cui hai bisogno è veramente un controsenso rispetto al tuo stesso interesse puoi solo rallentarlo quell'intervento invece che accelerarlo però appunto perché era molto chiaro in sede di comitato si era condiviso con tutte le forze dell'ordine dei passaggi strutturati in tutte le fasce orarie attraverso le volanti, le gazzelle dei carabinieri anche la polizia locale e la guardia di finanza in modo che l'operatore sanitario, specie nel pronto soccorso non si sentisse solo nella sua attività io avevo da tempo in mente di riaprire il posto di polizia diciamo che mi sono presa un giusto tempo per individuare innanzitutto le persone giuste perché credo che questo tipo di attività richieda anche una certa capacità di comunicativa perché poi se devi intervenire con delle persone che magari sono sicuramente come dire un po' alterate usiamo un termine generico e che però hanno anche bisogno di un supporto devi avere quelle capacità che ti provengono solo da aver fatto un certo tipo di lavoro sulla strada e saper interloquire con chi ti trovi davanti che può essere non necessariamente una persona diciamo da fermare in maniera fisica ma alle volte è anche solo una persona con cui parlare quindi io ho avuto forse ci ho messo un po' di tempo me lo dico da sola però sono veramente soddisfatta delle persone che ho individuato e abbiamo messo insieme un meccanismo che però non tutela solo diciamo le fasce orarie diurne ma cercherà di proseguire questo servizio anche nelle fasce serali e notturne in una forma diversa ovviamente ecco le persone che avete individuato diciamo così i due colleghi esatto i due colleghi della Polizia di Stato giocheranno quindi anche un ruolo educativo se vogliamo da questo punto di vista che forse è più importante cioè due cose la comunicazione appunto delle situazioni di un certo tipo che vanno gestite nella serenità ma anche una presenza che funziona da deterrente ma nello stesso tempo in un rapporto diretto che può essere anche educativo certo la divisa di per se stesso in alcune circostanze è già un deterrente quindi io sono sicura che molte circostanze potranno essere contenute più agevolmente solo con la presenza dell'operatore poi i colleghi avranno ovviamente il compito di ricevere delle denunce e anche di fare delle valutazioni complessive sulla sicurezza diciamo di tutta la situazione di tutta la situazione che riguarda l'ospedale la parte interessante secondo me riguarda anche gli altri progetti che abbiamo in mente il primo come le dicevo poco fa verrà dedicata a brevissimo c'è stata una questione tecnica da risolvere una linea diretta tra il pronto soccorso del Sant'Andrea e il pronto soccorso del San Bartolomeo a Sarzana con la nostra sala operativa in modo da consentire un intervento immediato anche nelle fasce orari in cui non fosse presente l'operatore o l'operatore fosse presente ma magari impegnato in qualcos'altro perché chi si trova nell'ospedale potrebbe chiedere l'intervento dell'operatore anche in un reparto o in un qualunque posto ed era la domanda che volevo fare è chiaro che il punto critico è il pronto soccorso perché l'accesso, l'urgenza ma può succedere assolutamente anche la libertà dell'accesso perché il pronto soccorso ci rende tutti liberi di entrare e quindi non c'è nessun filtro e quindi anche da questo punto di vista ecco il ruolo di deterrenza la presenza comprende anche il fatto di poter andare nei reparti all'occorrenza all'occorrenza potrebbe succedere anche questo al momento non è ancora successo a parte un episodio di questa settimana però potrebbe accadere che l'operatore o entrambi gli operatori siano impegnati in qualcos'altro quindi in questo senso abbiamo pensato con il direttore generale la possibilità di avere una linea che non comporti la necessità di fare un numero specifico ma che sia proprio una linea diretta immediata in modo che l'intervento possa poi veramente essere immediato nell'arco di qualche minuto possa arrivare una macchina l'operativa, la macchina più vicina la manda e quindi a questo punto di vista se noi fossimo impegnati arrivano i carabinieri siamo tutti in contatto e siamo tutti al servizio di questa cosa anche perché laddove non fosse stato chiaro prima del 2020 dopo il 2020 tutti abbiamo capito che senza una sanità sicura non possiamo vivere bene ecco da questo punto di vista possiamo considerarlo davvero un passo in avanti nel senso che non è solo l'emergenza ma c'è un ragionamento davvero di presa di coscienza di un tema che non poteva essere ulteriormente procrastinato nel tempo mi perdoni se la interrompo ma abbiamo un pensiero con la dottoressa di riuscire ad organizzare anche delle formazioni congiunte da una parte i nostri operatori fanno dei corsi gli operatori che effettuano controllo del territorio fanno dei corsi specifici che si chiamano gestione della rabbia e quindi noi vorremmo poter condividere queste nostre esperienze non perché ci aspettiamo che il medico faccia l'intervento che fa il poliziotto però magari qualche piccolo mi passi il termine trucco potremmo condividerlo e dall'altra parte loro stessi potrebbero dare a noi una serie di informazioni utili sulla strada ecco una delle questioni che emerge prepotentemente in questo ragionamento che stiamo affrontando diciamo così di prevenzione di questi fatti è il processo di comunicazione forse spesso è l'assenza di una comunicazione che crea l'ansia che poi si trasforma piano piano in iper preoccupazione poi in rabbia poi scoppia da questo punto di vista pur con le carenze di personale che si registrano c'è un processo in atto per cui si possa sopperire a questa difficoltà dottoressa sì stiamo valutando con la direzione sanitaria e la direzione aziendale delle soluzioni anche tecnologiche per garantire un'informazione più tempestiva perché siamo consapevoli che spesso appunto la rabbia nasce anche dall'incertezza e dalla fragilità emotiva di chi è in ansia per il proprio congiunto certo non è mai giustificata l'aggressione assolutamente mai giustificata e spesso il parente del paziente non è in grado di valutare l'indice adesso io non so come si chiama di priorità di priorità e quindi è chiaro che il medico sa se rispetto alle presenze se un codice è giallo piuttosto che rosso o piuttosto quant'altro ma ad ognuno il proprio paziente il proprio parente è un codice rosso assolutamente quindi c'è questo fatto anche affettivo che però va valutato nella giusta considerazione bisogna saper ridimensionare anche le proprie ansie nell'ambito di tutto il sistema dell'assistenza sapere che ci potrebbe sempre essere qualcuno che sta peggio di noi del nostro congiunto e che merita assistenza prima di noi prima del nostro parente questa consapevolezza dottoressa Simonini che è anche la comunicazione che crea questo divario questo questo distacco c'è negli operatori ed è un pensiero anche per loro ma sì poi abbiamo già cercato appunto in questi anni di coinvolgerli in percorsi di formazione sulla comunicazione abbiamo fatto dei percorsi sulla comunicazione nell'emergenza abbiamo fatto venire da fuori del personale esperto anche in questo settore della comunicazione percorsi di formazione sulla comunicazione al front office quindi abbiamo già iniziato prima della pandemia negli anni 2017 e 2018 a fare questi interventi formativi proprio per sensibilizzare anche gli operatori sanitari sulle corrette modalità comunicative che sono sicuramente importanti poi purtroppo c'è stato un arresto dell'attività formativa nel periodo della pandemia e adesso stiamo cercando di ricominciare a fare formazione anche su questo perché è sicuramente importantissima purtroppo come dicevamo prima fuori onda diciamo nei nostri percorsi come sanitari durante il percorso anche di laurea o anche di formazione specialistica non ci sono corsi specifici sulla comunicazione e invece credo che sarebbe veramente importante farli per cui anche l'operatore sanitario deve diciamo crescere da questo punto di vista per riuscire diciamo a intraprendere un'empatia un'intesa per riuscire a spiegarsi nel migliore dei modi con i pazienti e con i caregiver che in quel momento sono senz'altro in un stato d'ansia di agitazione quindi particolarmente fragili ecco però niente giustifica l'aggressione ecco a mio avviso la speranza è quella che si prenda questa data del 12 marzo come inizio di un cammino diverso dove anche la comunicazione ha la sua importanza che ne dite possiamo prenderci un impegno per cui questo 12 marzo lo celebriamo più spesso perché anche apparire in televisione e spiegare appunto le difficoltà che ci sono il modo può essere un modo anche per richiamare ognuno alle proprie responsabilità se vogliamo starci la nostra emittente è sicuramente felice di dare questo servizio ora il tempo purtroppo è tiranno però volevo chiedere ad ognuna di voi di dare una raccomandazione ai pazienti ai familiari dei pazienti perché si prenda davvero coscienza che non è attraverso lo sfogo momentaneo di una rabbia che si risolve il problema ma con una valutazione davvero più sensibile rispetto ai compiti di ognuno e ognuno cerca certamente di farli nel migliore dei modi alle condizioni date quindi è una raccomandazione che secondo me ognuno di voi per il proprio ruolo per la propria competenza riuscirà a dare dottoressa Simonini ripartiamo da lei e arriviamo poi alla dottoressa Fredella va beh io se posso dare una raccomandazione ai pazienti e ai visitatori è quella di considerare che che hanno di fronte cioè l'operatore sanitario o socio sanitario una persona appunto una persona umana e come tale ha diritto ad un benessere non solo fisico ma anche psicologico e sociale e che quindi non bisogna ledere questo benessere psicosociale dell'operatore sanitario ecco deve passare dalla mente di ognuno che ci siano delle persone che facendo il proprio lavoro pensano di fare il male del proprio paziente credo che sia assolutamente assurdo e quindi questa cosa va maturata in tutta la sua complessità assolutamente noi operatori sanitari abbiamo scelto questa professione per aiutare gli altri e soprattutto chi è in difficoltà e gli stessi disagi che generano rabbia avversione nell'utenza sono gli stessi disagi che viviamo prima ancora noi sono disagi si diceva di sistema legati a questo particolare periodo non felice per il sistema sanitario infatti se vediamo le aggressioni sono andate di pari passo con i tagli alla sanità con la crisi economica del 2008 e quindi la nostra raccomandazione è aiutateci ad aiutarvi cioè metteteci nella condizione di potervi aiutare di lavorare serenamente il compito e i provvedimenti presi dalla polizia sono perché questo problema non diventi un problema di gestione dell'ordine pubblico ma un problema educativo sicuramente poi io trovo una grande somiglianza tra gli operatori sanitari e gli operatori delle forze dell'ordine tanto è vero che rifacendoci al periodo del covid eravamo entrambi un servizio pubblico essenziale ovviamente ciascuno secondo le proprie competenze ma perché? perché siamo tutti al servizio del cittadino che nel caso dell'operatore sanitario è un paziente beh però lo dice un po' la parola stessa se sei paziente un po' di pazienza la devi mettere io vi ringrazio davvero speriamo di aver dato questo servizio di creare comunque un minimo di dibattito su questo tema di presa di coscienza l'impegno me lo avete dato e torneremo su questo argomento non aspettandola il 12 marzo dell'anno prossimo ma anche un pochino prima quando riterrete opportuno volentieri vi ospiteremo grazie alla dottoressa Lilia Fredella questore della Spezia alla dottoressa Michela La Regina direttrice della struttura complessa governo e rischio clinico e la dottoressa adesso lo dico bene Silvia Simonini medico competente grazie davvero e buonasera ai nostri telespettatori grazie grazie a tutti Grazie.